Un netturbino di 45 anni, Antonio Tancredi, è stato freddato ieri mattina alla periferia di Torre Maggiore nel Foggiano. L'uomo ha tentato di scappare, ma i killer lo hanno inseguito e ucciso in via Lucera. Tancredi, operatore ecologico del posto, è stato ucciso a colpi di pistola durante una disperata fuga a piedi, dopo che i killer avevano già aperto il fuoco contro la sua Alfa Romeo 159, infrangendone i vetri. Tancredi è stato trovato già morto a circa 100 metri dalla sua auto, riverso sull'asfalto con diverse ferite d'arma da fuoco, una delle quali alla nuca. L'omicidio è avvenuto attorno alle 5. La vittima, pluripregiudicato con precedenti per droga, estorsione, furto e associazione a delinquere, sarebbe sfuggita ad un altro agguato due mesi fa sempre a Torre Maggiore, indagano i carabinieri.